Una vittoria importante, così quanto è importante partire col piede giusto all'inizio di una nuova avventura. La Filiani BPA inaugura la sua Lega 2 2012-13 incassando due punti contro Brescia, in una partita di alti e bassi in cui Iesi convince quando conta, in quel finale di partita in cui, a partire dalla metà dell'ultimo quarto, gli Arancioblu sprintano e chiudono conquistando una vittoria in scioltezza. Tante cose da registrare in casa Filiani BPA, alla luce di numeri che raccontano i 18 rimbalzi offensivi concessi all'avversario ed il 2 su 12 al tiro pesante degli uomini di Cioppi. Ma nel bilancio va anche tenuto conto delle difficili condizioni di partenza, di una Filiani BPA che nelle ore di domenica precedenti il match aveva visto messa a rischio anche la presenza del playmaker titolare Jesse Sanders, aggiunta all'annunciato mezzo servizio degli scavigliati Valentini e Colonnelli. E quindi, se prestazione migliorabile è stata quella in campo della squadra, prestazione da applausi è stata invece quella dello staff medico, ringraziato in toto da coach Stefano Cioppi a fine gara, nel riuscire più o meno a rimettere in piedi tutti, Sanders compreso che ha stretti i denti dopo essersi ritrovato con la schiena bloccata sul finale di quella che era stata la seduta di tiro domenicale. Iesi dunque può gioire ed accontentarsi per questi due punti, conquistati fra i voli di Eric Griffin ad aggrapparsi al canestro le penetrazioni decise e decisive dello stesso Sanders. Dopo l'equilibrio di tutta la prima parte di gara, di tanti errori sulle due sponde in particolare nel terzo quarto, Iesi Brescia si decide in quell'ultimo parziale in cui i padroni di casa fanno 29 a 15 a proprio favore, con Maggioli a dare in là e poi la coppia a stelle e strisce a firmare la doppia cifra di vantaggio Iesina sul più 10, che da lì in avanti indirizza la gara, con la fila di BPA infine vincente per 73 a 58, bene così per essere la prima, ed ora sabato sotto con l'anticipo di Verona.